posso parte il tempo parte il tempo ok grazie perfetto allora abbiamo maestroni sul lato sinistro mentre sul lato destro abbiamo Dario Dario quindi abbiamo al lato sinistro maestroni con mono black zombie al lato destro abbiamo Dario con mono u fate ok è il momento interessante come match up bisogna vedere bisogna vedere perché bisogna vedere come la lista di maestroni sono più curioso anche se più o meno ho già più o meno l'idea di quello che sta giocando e come lo sta giocando Andrea maestroni mbz mi piace no però mettiamo e mettiamolo sotto no 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 restiamo così allora così si capisce per bene e dall'altra parte abbiamo Dario Reina se volete si decidono le stampa di una carta non comuna comune che carta faresti stampare non per forza una staple questa domanda l'hanno messa anche su instagram da metri g pezzi tra l'altro l'ho risposto io ho subito DRC no beh DRC sarebbe bellissima ma già c'è il rosso DRC sarebbe un delirio che meta basta grazie per l'abbonamento FUNTA 777 si l'abbiamo ringraziato anche prima che tra l'altro salutava Morinz che è appena passato il live non lo so non lo so sono mon amour mon amour non lo so teniamoci questa domanda per post game magari ci ragioniamo un attimo scusate non è successo come dire di Dio si sa mai cosa succede allora vediamo il Davinos allora ok si non è poi l'esplosione da frammentazione da un maschietto a uno schianto che è la il testo di colore immaginavo il testo di colore si si chiama testo di colore infatti su Bojuka Pod ne parlavano come si chiamava si chiama testo di colore allora in inglese fa cagare perché è testo di sapore flavor text testo di colore testo descrittivo poesia la chiamerei molte volte è poesia molte volte è poesia abbiamo un defile tengono tutte due a sette anzi no sei Dario parte maestroni con terra carry on feeder quindi si sarà una partita bella bella aggressiva ah beh un defile così subito pulito ci sta why not pizzera un dannino usciamo l'invest ah ok come può dargli dei pump secondo voi uno per sfruttare bene dell'abilità sacco uno per mettere uno oltre su un aristocrat pump pump potrebbe dargli uno per sfruttare i rianimino nero come si chiama ah certo la stamina la stamina ecco stamina aggressiva più lo shambling da quello che mi hai detto non aveva modo di comprare lo zoni ah ok lo teniva solo perché faccia un altro pezzo perché fa due pezzi da spaccare da spaccare ok riniti shambling meno uno meno uno meno uno eh si deve deve saccarlo però ok stava solo passando tutto ok anche la mutagenica ammetto che quelle paludi lì non mi dispiacciono ah o un altro non mi dispiacciono come altri però ormai sono troppo tentato sono troppo fissato di vedere tutte le cose diverse meroina cioè ogni terra ogni terra diversa ogni lagarta diversa invasione invasione war war z ok ha visto la seconda terra ah no si ha fatto doppio scrae qua e intanto andrei inizia a picchiare come un fabbro puoi attaccare si si puoi attaccare con tutto attacchi con tutto Dario difficilmente penso che cian bloccherà con la sua fatina perché probabilmente serve per pescare vorrà anche pescarci o fare ninja dopo sono cattivi eh i zombie io giocherei a me invece va il costo 2 che mette il tipo con uno 0-0 ok un altro fa scogliattolo lo scogliattolo si il costo 2 1-2 quando entra a mass quello è carino quello è carino soprattutto perché gioca uno zombie anche costo 1-2-2 che ha il tuo mattino di fondamento il carnofago e l'ematofago esatto bravissimo quello è costo 2-3 eccole qua questo però è il carnofago è il carnofago carnofago eccolo mi ha chiamati tutti mi ha chiamati tutti amici carnofago non mi ricordo l'espansione mentre l'ematofago il cane è di war of the spice guarda della scintilla bellissima espansione di esudo carnofago è di esudo perfetto stiamo preparando tutto il pacco token già ce l'abbiamo abbastanza fornito ci manca lo squirrel lo aggiungeremo presto eh si tanto mi sa che io sono la prima cosa di nuovo all'uscita esudo si e lo so che le pedine fanno parte del mazzo concordo pienamente con te adesso fa nel dubbio te lo toglie nel dubbio non c'è più ah ok salutiamo ciao Michi che ci arriverà e porterà una marea di scogliattoli e ghiande e ricordiamo che il carno mi immagino la scena di Michi che arriva con le guance piene di di ghiande così Michi ti vogliamo bene è questa la verità ok continuo a picchiare tra l'altro il carnofago a ogni upkeep fa un danno a se stesso se non lo vuoi tappare in realtà sono un po' di danni però questa lista sembrerebbe che soffra un pochino ma è stato messo così gioca la spell bianca che dà più 2 più 2 a tutti gli zombie se non sbaglio che chiusura mamma mia a tutti gli zombie e costa un bianco e un incolore o due incolori mi ricordo se mi costo due o tre e il bianco lo fa soltanto con i tesori e beh c'ha anche gli shambling quindi ci sta ci sta ci sta carino picchie come si chiama il mazzo o come si chiama la carta che dà più 2 più 2 agli zombie la carta il mazzo è lì penso sia la carta dovrebbe dare più 2 più 1 si Michi sta giocando mono black zombie provo a fare magic card search su skyphone forse dovrei fare un tasto cerchi carta bianca con è un instant è un instant si 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 allora un mega filtrone chi forse è di amon cat non voglio dire una stupidata o di quella o di hour quel ciclo lì ma sai che può darsi perché c'era un id è più probabile di amon cat è probabile vediamo se ho memoria di questa cosa o se dico una bagianata eccola qua in ok trust name di amon cat più 2 più 1 a tutti gli zombie e più 1 più 1 alle altre creature sei stato più veloce tu quindi anche lo scogliettolino prenderebbe più 1 più 1 così però gli zombie prenderanno più 2 più 1 costa solo 2 si è praticamente un rally un rally for ta rally for zombies per zombie si era un po' che andrea aveva questa idea malata ha trovato la pregheddon poi tanta roba non so se vorrà portare non so se vorrà fare la pazzia certo che potrebbe essere molto inaspettato come zubera come zubedad fu che vuole portare zubera ai gheddon di Roma matto matto però apprezziamo il gesto mi raccomando sempre non abbiamo anche noi un un amante la carta che esiste è un'altra carta che è verde che da kicker nero con tutti i zombie proviamo a cercare vediamo un po' cos'è vediamo chi arrivo prima allora pauta qua penso che decide molto probabilmente maestro ne avrà qualche fumi qualche qualche rimozione ad area si si chiama strength of night forza della notte costo 3 2 in colore 1 verde kicker 1 nero le creature che controlli prendono 1 più 1 fino alla fine del turno invece se è stata kickerata gli zombie prendono più 2 più 2 addizionale addizionale quindi hanno più 3 più 3 a costo 4 a costo 4 si a sto punto tengo tengo quella bianca a sto punto si può splasharla di verde si mortello sul tubo e non qua questa è una grave mancanza ma come benvenuto ah vediamo fatine fatine possiamo ragionare almeno su che cosa mette al dentro fatine cosa può giocare contro una sciamata di zombie del genere probabilmente magari se c'ha un being the monster magari per bloccare quel carion feeder carion feeder e si ma lo blocco volentieri si nelle fasi iniziali per renderlo inutile usate non era l'intenzione uh fa vedere la non l'ho visto l'ande non l'ho visto l'ande ecco questa secondo me voi cosa dite ragazzi ecco in tutto vi piace questa questa opzione perché secondo me potrebbe essere che si può chiedere ai ragazzi della della stream di far vedere la prima mano almeno per avere un'idea di come stanno partendo ci sta senza ovviamente dare informazioni all'avversario è questo ok allora certo però voi cosa ne dite chat vi vorrebbe piacere uh il rug che da meno due meno zero allora come side lista stock una vediamo se è possibile farlo vediamo di riuscire a farlo anche noi a questo geddon ecco in realtà lo giocano in molti quindi vorrebbe avercelo still sabotage però no still sabotage non te ne fai niente in questo caso non è corfew neanche gutshot no non si usa più ma in demonstra qua però in poco lo utilizzano anche qua c'è un blocca per dare meno uno meno uno poi se fosse la vecchia lista spire golem potrebbe essere un buon bloccante beh geist a questo punto quella vecchia lista geist blocca sulle volanti esatto blocca sulle volanti a questo seppur è un è un re di vivo va bene va bene va bene ted massimo chiediamo anche alla prossima partita se ci fanno questo favore va bene almeno inizio game o magari si può chiedere però se si chiede troppo a game inoltrato no 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 game inoltrato no perché c'è troppa concentrazione però all'inizio si potrebbe fare ok è complesso ci sta bene da meno 2 meno 0 adesso gli serve un pezzo cosa sta succedendo riti riti a fine turno per pescare 2 non perdere pezzi non rischiare di prendersi sopra una counter direi che comunque buono perché di riti è costo addizionale si e ha messo l'anda si ci può stare ci può stare ah vediamo lì sono delle ah no scusate ho confuso di pensare 32 no quanti siamo scusate no in dispari perché c'è un bar 31 31 31 31 29 no no 29 è un bel numero eccolo qua l'altro fratello eh questo è un 5 oh che l'anda è quella è la non mi viene il nome adesso praticamente fa come Saruli tipo tappa lei più tappa una creatura per prendere mano di qualsiasi colore è di no è di non mi viene il nome perché lo shambling gasta quando muore è creato è solo si shambling gasta da meno uno meno uno oppure comunque è di si è di zendikar il secondo giro di zendikar che non mi viene come non mi viene come tra l'altro c'è una carta di amonkett che fa la medesima cosa ok grazie chita auto gate watch ecco bravo come si chiama per edizione lì c'è un altro rito in mano qua inizia a picchiare perché tra l'altro adesso lui si prende due o tre danni a turno ma inizia a picchiare come un dannato non sono piccole quelle cose lì tra l'altro sono un carnofago e doppio amatofago minchia eccola eccola l'abbiamo chiamata allora potrebbe giocare un paio qua riti riti su quella con il nome e danno passa ci sta fizza l'effetto in questo caso si probabilmente non hanno segnato i danni dovrebbe essere cinque danni no mi ricordo quanto si forse sta sta facendo prima di potrebbe essere un 3-3 costo 2 e l'altro un 2-2 costo 1 ok si sta segnando adesso ha tolto il bloccante aggressivi questi zombie e il bono blu non so quanto gli sta dietro o parte subito con i counterini con le fatine con i pezzi giusti se no qua lui ogni turno mette pezzo pesca fa robe carne e figlio e l'altro un 3-3 e l'altro un 3-3 costo 2-2 i fratelli e uno ti fa un danno e l'altro ti fa due uno costa uno e l'altro costa due insomma fanno sempre un danno meno di quello che dovrebbero fare loro si sono fratelli si è ben visto tutti i due game prima è stato un land drop anche adesso sto saltando un land drop come basta e poi le fatte sono quelle più amate un tier fondamentale iconico nel del pauper del magic in quella in generale più del più del pauper direi un altro cacchio questo è il terzo rito certo è vero che con i riti vai a pescare questo non ne discuto più del mio tier 1990 esatto vero vero qua sono le due città beh neanche tanto 1290 perché un anno fa sono tre danni adesso c'erano tre versioni di fate mono U UB e UR certo erano sempre lì eh ok c'è un master esatto si adesso non può passare nessun attacco perché tanto c'ha la spell bianca però c'ha doppia landa in mano più la spell bianca tra le versioni di fate o quale art cast ninja vuol dire che male male la situazione fate perdo per scroll perdo per float perdo per capimeno non è mai stato proprio un mio archetico mercantino è forte giocato così di curva forte ok fa bianco probabilmente eh sì è così si no sono 6 danni sono 6 danni in questo caso muore la hacker muore la hacker basta e basta va a 3 2 ammassa ah vero emon 1 non l'ha fatto granché eh no niente però se ci avessi perso ammetto che avrei detto come direbbe Aldo di Aldo Giovanni Giacomo che mazzo te l'ha finchia no dai non è vero ragazze ma in sé come mazzo non è di spiagione con l'opportunità ma che te l'ha sciamato tantissimo sì così pescano poco puoi fare anche vantaggio cioè il value comunque possiamo dire che ha pescato 6 carte addizionali l'ultimo turno eh però gioca 8 peschini se non sbaglio comunque giusto per fare il recap maestroni vince questa partita 2 a 0 grazie a tutti